Nazareno Tomasetti era e ci sarà il cibo e la luce del mio cammino. Il mio vissuto la sentiva perché aveva toccato con le sue mani il dolore della famiglia. Oltre migliaia delle coline e montagne, quando il suo respiro sognava la soglia della casa come me. Nazareno spesso con il suo sguardo gli raccontava i momenti indimenticabili, quegli momenti che specchiavano il domani dei miei rientri nella mia patria. Non mancava nessuna virgola nel mente di quei versi specchiati nel mio cammino. Nulla poteva smentire il suo sguardo. Grilava sempre sui versi infiniti nell'arca dei fogli. Che è stato il mio cuscino dove appoggiava la mia anima e il cuore che spesso aveva bisogno di sentire il suo respiro vivo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.